Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare un video dedico per Shannon99B, sei bravissima, io non ho mai fatto video sulle Monster High, però ho intenzione di farlo presto, ok, qua c'è la tua Monster High preferita Shannon, almeno credo, e questa immagine l'ho presa dal Monster High Fashion Style, che sarà forse la mia prossima detenzione, poi ci sono anche raffigurate Draculaura, Claudine Isle, Claudine Wolf che sarebbe la mia preferita e Laguna blu, ok, sei bravissima Shannon a fare video, questi fiori sono anche per te, e ciao!